Ma vediamo degli ospedali e delle scuole, dei luoghi di eccellenza, spenderemo un sacco di soldi perché il nostro bambino quando va a scuola, voi avete visto certe scuole come sono combinate, paiche e otti, tutto scassato, spenderemo tanto, di scuole che costate, scuole Siamo pronti alla morte, si apronte alla morte io ci chiamo Siamo pronti alla morte, si apronte alla morte Italia